Ragazzi siamo all'ottantanovesimo, 22 secondi e il Cagliari sta vincendo contro la Roma 3 a 2. State sintonizzati qua e su Stefano Marrastano Sport perché ve lo lascio qui in descrizione perché è il nuovo canale dove si parla tutto dello sport tranne che il calcio. Ragazzi a prescindere domani uscirà sia un video riguardante la lotta a Champions che un video dei paggelloni ignoranti riguardanti a Juventus Fiorentina e Rubri Cagliari. Quindi state sintonizzati maledetti bastardi. Mamma mia ragazzi stanno vincendo 3 a 2 il Cagliari, attenzione 4 minuti di recupero attacca alla Roma, neutralizza il Cagliari e sarà corner. Vediamo di chi è l'ultimo tocco. Sembra essere di un giocatore del Cagliari, infatti così ci sarà il corner. Tutti in mezzo praticamente per la Roma, l'unico probabilmente è Paolo Opez. Va, il cross, in mezzo, il pallone va indietro, ancora il tiro di Diavara. Spazzala via, novantesimo a 30 secondi, mamma mia ragazzi. Non ci sto credendo, c'è un qualcosa di assurdo al momento. Un qualcosa di clamoroso, attacca la Roma, attenzione a neutralizza la difesa del Cagliari con Duncan. Cerca di ripartire in contropiede però c'è un fallo di Mkhitaryan ai danni di Alberto Cerri che perde tempo lanciando la palla. Manca solo 3 minuti e 10 e potrà cantare vittoria il Cagliari, anzi c'è un evidente fallo di mano di Vichar. Va a Vicario, si appresta a perdere tempo anche, la mette avanti. E va verso la rimessa dal fondo, anzi un calcio di punizione abbastanza avanzato. Lo batte il portiere e probabilmente verrà ammonito. Invece no, non viene ammonito, ha perso tantissimo tempo, attenzione, qua la palla. Sfila via, non riesce a prenderla Alberto Cerri, 91 e 30 ormai. Mancano 2 minuti e 30, mancano 2 minuti e 30, mancano 2 minuti e 30. Il Cagliari potrebbe fare un'impresa clamorosa, vincere contro la Roma. Ragazzi siamo al 91, 56 secondi e il pallone messo in avanti dalla Roma neutralizza la difesa del Cagliari. Il pallone ancora gestito, poco di là della metà campo. Attacca la Roma fino all'ultimo secondo, attacca la Roma, un dribbling. Mette fuori, nananze, nandez, mamma mia ragazzi, mamma mia il Cagliari può portarsi a casa questa vittoria che sarebbe preziosissima, preziosissima per loro. Per la lotta salvezza, attenzione, la riprende il Cagliari, difesa scoperta della Roma. Ancora il Cagliari attacca invece, viene neutralizzato dalla difesa della S Roma. Fallo del Cagliari, cartellino giallo al danni di Duncan, ma ragazzi la prossima partita dovrà vincerla. Oltre a questa perché sarà un big match contro il Napoli 2 maggio, mentre poi ci sarà uno scontro salvezza praticamente contro il Benevento. Attacca la Roma, il pallone verso in mezzo, di poco fuori il tiro della Roma. Che rischi, anzi, Godin l'ha presa, mamma mia Godin. Grazie Godin, grazie Godin che ha neutralizzato questa azione. Il pallone, il cross in mezzo. Ancora attacca la Roma, siamo al novantatresimo e venti secondi. La palla tiene lì Vicario, la perde tempo Vicario. Vicario la vuole tenere lì, la vuole tenere lì. Non si vuole più staccare dalla palla. E adesso sicuramente andrà al rilancio più lungo possibile. Novantatresimo e trentotto secondi, anzi, quarantatré. Il rivio più lungo possibile, il pallone a cercare l'attaccante. Cerri, Cerri vince il contrasto aereo, Cerri, Cerri. Fallo, fallo della Roma? No, non è fallo, è niente, si è buttato a terra. Ancora, e finisce qua, finisce qua. Il Cagliari trionfa, trionfa il Cagliari, trionfa il Cagliari. Non ci credo.